Sono molto molto felice perché per me è stato un po' come un tornare a casa dopo la mia prima missione, ovvero si torna a terra all'inizio e ci si sente pesantissimi perché la mente, il cervello e il corpo devono riabituarsi alla sensazione del peso. È un effetto molto bello in realtà perché è un costante cambiamento con una velocità lenta, quindi anche molto maestosa, è un costante cambiamento dei paesaggi. Guarda giù, ovvero. ...che è l'Agenzia Spaziale Europea e per entrare alla NASA ho fatto un test, una sorta di selezione, che ha durato circa un anno, in cui ho fatto sia test di capacità tecniche cognitive che di aspetti psicologici che sono molto importanti per gli astronauti, aspetti psicologici e di personalità. Diciamo che gli astronauti si sentono sempre un po' sotto pressione, anch'io perché ci sono tante persone che contano su di noi, che ci hanno addestrate e poi contano su di noi affinché noi eseguiamo bene il nostro lavoro. Quindi cerchiamo il più possibile di non fare errori, anche se ovviamente gli errori capitano a tutti. Ho sognato fin da piccola di fare l'astronauta e siccome era questo mio grande sogno, credo di avere poi sempre avuto la volontà e il desiderio di perseguire. Giuseppe, in generale selezioniamo gli astronauti o dalle carriere di pilotaggio, quindi piloti con una grande esperienza di volo, oppure persone che hanno fatto una formazione di tipo da ingegnera, da scienziata, medici, matematici. Io ho fatto una cosa un po' mista perché ho studiato ingegneria e poi sono diventata una pilota militare nella nostra aeronautica militare. Sono diventata astronauta dell'ESA quando avevo 32 anni. Delle competenze troppo specifiche non ti saprei dire. È più una questione di avere in generale una formazione scientifica o ingegneristica o dal mondo dell'aviazione, in modo da avere quelle competenze tecniche e quella capacità di comprensione delle cose tecniche in generale. Poi le competenze specifiche ti vengono insegnate quando diventi astronauta. Ciao Daniel. È dura di diversi anni, dipende dal tipo di missione. Nel primo volo mi sono addestrata per tre di tre anni, questo un po' più corto, l'addestramento circa un anno e mezzo. La prima volta ci vuole qualche giorno, anzi forse un paio di settimane. La seconda volta, devo dire, è come andare in bicicletta. Mi sono trovata subito a mio agio. Quindi abbiamo dei satelliti in orbita geostazionaria. Noi trasmettiamo a loro e i satelliti li trasmettono a Terra. Ma diciamo che non c'è un tempo massimo. Di solito restiamo per 4, 5, 6 mesi, ma ci sono persone che sono restate anche un anno intero. Esattamente, diciamo che è un parolone. Per esempio ci sono dei sismografi, anche gli astronauti Apollo hanno lasciato dei sismografi sulla superficie della Luna e tramite queste sismografie gli scienziati sono in grado di depurre grosso modo la composizione dell'interno della Luna e i vari strati. Marco, ma sai, non è diverso da un po' tutte le professioni impegnative, uno di quei mestieri dove serve un impegno su molti anni, quindi bisogna essere disposti per molti anni a dedicare tanto tempo a questo, tal come tutte le cose difficili che ci vuole tanto raggiungere, poi la gioia è immensa quando effettivamente si raggiunge l'obiettivo. Buon lavoro a tutti. Assolutamente, grazie a tutti, un bocca al lupo a tutti quanti, ai ragazzi, ai dirigenti, agli insegnanti della scuola e ai volontari di Ares. A tutti un caro saluto, un bocca al lupo, ciao.